Giuseppe Campisi è stato eletto ieri sera nuovo presidente del comitato dei sindaci della Locride nella seduta di un'assemblea molto partecipata. Campisi, sindaco di Ardore, ha raggiunto alla seconda votazione l'unanimità garantendo così unità di intenti per i sindaci locridei che questa volta hanno dimostrato grande coesione e voglia di riprendere un percorso interrotto quasi un anno prima. La soddisfazione è perché il riconoscimento avuto da parte di tutti i miei colleghi dopo anni di battaglia e ogni elezione per il presidente dei comitati dell'assemblea oggi si è raggiunto un accordo all'unanimità di scegliere il presidente. Certamente questo mi inorgoglisce e mi responsabilizza ancora di più di cercare di coinvolgere tutti e di cercare di dare una svolta alle tante problematiche che attagliano la nostra Locride e che tutti quanti noi insieme dobbiamo cercare di affrontare per poter uscire da questo impasse che si è creato negli ultimi anni. Una soddisfazione è essere eletto all'unanimità, mi sa che questo è un buon segnale per il futuro. Sì, io come ho detto prima nel mio discorso di ringraziamento mi auguro che questa sera non è la fine ma è l'inizio di un nuovo percorso e l'inizio del percorso nuovo tutti i sindaci ci rendiamo conto che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte perché i problemi sono tanti e non possiamo più trascurarli. Ecco, quindi si riparte con maggiore slancio dopo quasi un anno di pausa ecco quindi questa è una soddisfazione anche te? Sì, sicuramente ma noi dobbiamo renderci conto che solo parlando un'unica lingua possiamo farci sentire ai piani alti della politica perché solo così la Locride può essere rispettata da chi ci trascura da anni.